Sono le due di notte nella stazione di Domodossola. L'uomo vestito di rosso, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dello scalo ferroviario, sta minacciando una donna. Vuole trascinarla in un palazzo vicino per violentarla. Poco prima di avvicinare la vittima, il 26enne di nazionalità senegalese ha cacciato dalla sala ferroviaria l'unico altro viaggiatore notturno, un ragazzo cinese in attesa di un treno. Gli ha detto di essere un addetto della stazione e gli ha chiesto del denaro per poter rimanere. Il giovane, resosi conto della situazione, ha telefonato subito ai carabinieri e come vedete dal video li ha accompagnati nei pressi dello stabile dove si stava consumando la violenza. Aperto il portone del palazzo, i militari hanno sentito rumori provenienti dal sottoscala e hanno raggiunto le cantine dove hanno colto in flagrante l'autore della violenza. La vittima, una donna italiana di circa 60 anni, è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Domodossola in evidente stato di shock. Sembra che il suo aggressore, prima di trascinarla dentro il palazzo, l'abbia colpita, facendola cadere e sbattere la testa. Il 26enne, dopo la convalida dell'arresto, si trova in carcere a Verbania. Stando al racconto della vittima, la violenza consumata nella notte non sarebbe la prima. La donna, che risulta seguita dai servizi sociali, ha riferito che circa una settimana fa aveva subito dallo stesso uomo un'altra violenza, senza però denunciare l'accaduto.